Da qualche settimana una nuova app è comparsa nelle classifiche delle app per smartphone gratuite più scaricate in diversi paesi del mondo, e sta generando discussioni anche in Italia. Si chiama Saraya, è stata sviluppata in Arabia Saudita e permette di mandare a chi vi abbia un account messaggi in forma completamente anonima, senza che il destinatario possa rispondere e senza che possa risalire al mittente. Nonostante fosse stata inizialmente pensata per permettere ai dipendenti di mandare messaggi sinceri ai propri datori di lavoro, oggi viene usata per lo più dagli adolescenti solo per mandare e ricevere messaggi anonimi, però occhio alla privachi della vostra rubrica.